Il mondo dell'e-commerce è sicuramente il canale più in crescita per il settore arredo e lo sarà per molti anni, per cui per le aziende del nostro settore è molto importante affrontarlo con professionalità. Ci sono quattro regole principali che vanno seguite. La prima è pensare digitale. Oggi il 56% degli acquisti del settore arredo viene influenzato dall'online, per cui le aziende non possono più esimersi al pensare digitale. Una seconda regola è sicuramente quella di raccontare una storia. I clienti oggi comprano sempre di più esperienze e sempre meno prodotti. Un'altra regola importante è quella di vedere la propria rete di vendita fisica come una grande opportunità, come un anello centrale in una strategia digitale e anche e-commerce di un'azienda del nostro settore. Dobbiamo trasformare i nostri punti di vendita in una grande risorsa, integrandoli nei nostri processi digitalmente. Ultima regola, dimenticate i canali. Dobbiamo smettere di pensare ai canali e dobbiamo pensare in ottica di omnicanalità, perché oggi il brand non ha più l'opportunità di decidere il canale di acquisto dei propri clienti, ma può solo lavorare per costruire relazioni con i propri clienti. All'interno dei nostri corsi entreremo in tutti questi dettagli cercando di capire qual è la via migliore per i nostri brand per affrontare con professionalità il mondo dell'e-commerce che rappresenta la più grande opportunità che i nostri brand hanno degli ultimi anni.